Mi sto cimentando nella colorazione di questi quadri bellissimi di velluto in polvere. Viene lavorato con il velluto in polvere. Bellissimo, allora sono con Claudia dell'azienda Color Velvet. Color Velvet, questi quadri, ne vediamo alcuni già diciamo completati, consentono di colorare, mi raccontavi, senza uscire dai bordi. Sì, perché il velluto fa da bordo, non fa uscire dai margini, quanto è finito rimane un bel quadro. Questo è dedicato un po' ai bambini, ma anche agli adulti, che vogliono avere un'opera prodotta da loro, ma in realtà tracciata già da un artista. Sì, dipende di chi gli piace colorare, per i bambini non sbagliano, per gli adulti la stessa cosa, poi sempre viene un capolavoro, un bel quadro. Un capolavoro, in questo caso qual è il vostro prodotto innovativo? Qual è l'innovazione in questo, è la tecnica stessa che è innovativa? Sì, esatto, la tecnica stessa è innovativa, poi abbiamo fatto anche le scatole, da noi, si colorano le cartelline per la scuola. Quindi in realtà dal quadro si passa anche all'oggetto? Sì, le scatole e le cartelline. Allora, mi metto a colorare la scatola, aspetta, vediamo, che colore preferite? Arancione, giallo, tu? Giallo. Va bene, tu vai perché io ci metto un po' di tempo. Ciao a tutti, grazie Claudia. Grazie. Grazie.